6 mesi fa ho comprato un aereo, ho comprato il bellissimo Vimana rosso, questo mezzo che ormai conoscete perché abbiamo volato parecchio in questo primo periodo, vi ho fatto un sacco di video, siamo andati in montagna, siamo andati al mare, siamo andati in altre montagne, siamo andati un po' ovunque per quanto consentissero le limitate, come luce solare, giornate invernali. Adesso è stata attiva nei viaggi lunghi. Ma una grande domanda che mi fate sempre è quanto spendi di benzina? E oggi siamo qua a rispondere. 6 mesi dopo l'acquisto, signori, allacciamo le cinture. Aspetta che oggi è particolarmente corta la cintura, hopla, e iniziamo. Allora, sapete che in questa avventura, in questo canale Marco Romboli che sta crescendo assieme a voi, sono ormai più di due anni che facciamo video sugli aerei, sull'aviazione. Ho iniziato tanto tempo fa quando io sono diventato un pilota e vi ho parlato tra i tanti video, le lezioni che facevo, come funziona l'addestramento e cose varie. Mi piace essere molto trasparente anche sulla questione economica. E infatti ecco che vi ho fatto il video quanto ho speso per diventare pilota di aereo. Parlando di tutti i costi dichiarati, preventivati e di quelli nascosti anche, poi sono passati gli anni. 6 mesi fa, quando ho deciso di fare il grande passo e di acquistare il Vimana, vi ho fatto quasi subito un video su quanto l'ho pagato. Poi ho dovuto cambiare il motore per tutta una serie di cose. E anche lì comunque mi piace dare delle cifre a quello che poi raccontiamo, a essere il meccanico che va a fare le cose e tutto quanto. Insomma, oggi siamo qui a farlo con la benzina. Questa è una grande curiosità che avete. Allora, partiamo da fare due discorsi. Il primo è quali sono i costi vivi nel mantenere un aereo e il secondo è poi proprio sulla benzina. Però voglio giusto accennare, per cominciare, che la benzina non è l'unico costo vivo dell'aereo. Infatti, normalmente, per mantenere un aereo si fa un conto di costo orario, facendo delle stime il più possibile accurate, si fa il conto di quanto costa mantenere un aereo per la benzina, che consuma ogni ora, e la manutenzione. La manutenzione ovviamente non devi farla ogni ora, ma devi farla ogni 10, 20, 50, 100 ore. Insomma, ci sono tutta una serie di scadenze, sia calendariali, sia come numero di ore, risultati alle quali va fatta della manutenzione, e quella manutenzione va fatta fare da dei professionisti, che ovviamente hanno la loro parcella, e quindi se però ogni 50 ore devo spendere 500 euro di manutenzione, facciamo numeri a caso e molto semplici, 500 euro ogni 50 ore per dire, nel mio costo orario per mantenere l'aereo, è bene che, oltre alla benzina che mi brucia proprio ogni ora, è bene che io consideri anche 10 euro all'ora che devo accantonare, tra virgolette, per, arrivati a 50 ore, avere 500 euro da dare al meccanico. Insomma, ci siamo capiti, anche se i numeri non sono questi, però oggi non parliamo di manutenzioni, quindi ho sparato numeri a caso, era giusto per capirci. Molto bene, stabilito questo, parliamo solo di benzina. E quale tipo di benzina? Come sapete, esistono tre tipi di carburante che gli aerei possono consumare, o almeno gli aerei normali, diciamo, perché aerei militari poi hanno tutta una serie di brodaglie strane, chissà, ma normalmente i tre più diffusi, quelli che trovi in aeroporto quando vai a fare rifornimento, sono la MOGAS, l'AFGAS e il JET A1. La MOGAS è benzina per automobili, la benzina verde, 95 ottani, che puoi fare anche al distributore all'angolo. Poi se trovi la 100 ottani è meglio, però comunque MOGAS. Motor Vehicle Gasoline, penso sia l'acronimo. Comunque benzina delle macchine, diciamolo. Poi c'è l'AFGAS, benzina avio, benzina fatta apposta per gli aerei, cambia un po' la composizione, cambia soprattutto i controlli, quanto è pura, quanto è precisa, sempre uguale. Va in tipi di motori diversi, contiene piombo, tutt'oggi, nel 2024 contiene piombo l'AFGAS. Abbiamo fatto diversi video sulla presenza di piombo nei carburanti, ho fatto questo video, e poi ne avevo fatto anche un altro su quali benzina usano gli aerei, che era questo. Quindi se volete approfondire la differenza trovate i video sul canale. E poi c'è il JET A1, che è caroseine, gasolio, roba del genere in varie proporzioni, e serve per gli aerei di linea, per gli aerei turboprop, per gli elicotteri, non ci interessa. Anche perché non è benzina, è caroseine per il 70%. Mentre delle benzine, AFGAS e MOGAS, quale benza beve il mio aereo? Perché hanno un costo ben diverso. La MOGAS, la benzina verde, quant'è al distributore? 1,85? Non lo so. Io ho la macchina a GPL, quindi non ci faccio mai caso a prezzo della benzina. Facciamo 1,95. Se la fai negli aeroporti, negli avosuperfici, spesso la trovi a 2 euro, per fare conto tondo, o anche a di più. Per fare conti semplici, facciamo 2 euro la benzina delle macchine e 3 euro la benzina AFGAS. Quale tipo di benza beve il mio aereo? Fortunatamente, essendo un ultraleggero, ultraleggero vuol dire che è sotto ai 600 kg di massa massima al decollo, e di conseguenza vuol dire che ha solo due posti e quindi anche un motore più piccolo, almeno nel mio caso, è sicuramente un motore meno potente di uno di aviazione generale, e quindi anche come benza è più di bocca buona, insomma, beve benzina delle macchine, che è un notevole risparmio, ma quanta ne beve allora? E soprattutto come faccio a permettermi di fare ore di volo e farvi il video che vado a mangiare in Liguria? Beh, sul come faccio a permettermelo è presto detto, o meglio, è anche grazie a una mia propensione al risparmio nella vita, una, spero che si possa definire, oculata gestione patrimoniale, anche grazie allo sponsor di questo video, che è Money Farm, grandissimi che credono in questo canale, credono in Marco Romboli e hanno deciso di sponsorizzare questo video, soprattutto un'istituzione come loro, perché Money Farm è dal 2011 il principale consulente finanziario indipendente in Italia. Il servizio che loro propongono include una piattaforma comodissima, online, facile, accessibile, ma seria, per intraprendere uno dei percorsi di investimento che loro offrono. Quando mi sono iscritto, io personalmente a Money Farm, il processo è stato super semplice e super figo, perché con un breve questionario capiscono che tipo di investitore sei, quanto sei propenso o avverso al rischio, per quanti anni, insomma, pensi di mantenere il tuo investimento. Quindi tutta una serie di cose del genere per dopo stabilire il tuo profilo come investitore, ma anche la capacità mentale e psicologica di sopportare delle perdite nel breve periodo. Insomma, poi ti esce un profilo che ti aiuta a indirizzarti verso una diversa allocazione del portafoglio. Nel mio caso è uscito che sono un investitore dinamico, ed è lì ho scelto il prodotto gestione patrimoniale con livello di aggressività 5 su 7, per il mio caso. Oltre a essere diversificati, sono personalizzati, sono scelti in base al profilo di ciascun cliente. Poi hai la piattaforma web e l'applicazione per monitorare in qualsiasi momento H24, i tuoi investimenti. Ci pensano loro a farti i conti per le tasse, ad esempio. Ci sono un sacco di queste cose che uno sottovaluta, ma che sono importantissime. Perché Money Farm opera in regime gestito e fa da sostituto di imposta, quindi ci pensano loro a farti tutti i conti. È fighissimo. Ma il gestione patrimoniale è un po' il loro prodotto di punta per chi vuole accrescere nel tempo il proprio investimento, ma senza lo sbatti del fai da te e invece lasciando il tutto a dei professionisti. E soprattutto con il link che vi lascio in descrizione per approfondire, potete gratuitamente iscrivervi e fare già il test per capire che tipo di investitore siete. Ma anche avete uno sconto sulle commissioni per i primi sei mesi, quindi link in descrizione a Money Farm che ringraziamo per aver sponsorizzato questo video. E noi tendiamo a parlare di benzina. Quanto consume Vimana? Allora, monta un Rotax 9 E12 ULS come motore, 100 cavalli, che consuma circa 20 litri ora. In realtà sarebbero 18-19 litri ora, però spesso vedo che consuma un po' di più. In realtà mi consuma attorno ai 20 litri ora. Forse un po' di più della media, forse è colpa dell'elica, forse è colpa mia che tengo il gas un po' troppo dentro. Quindi una volta che sappiamo quanto consuma all'ora, e per curiosità se volete avere un paragone di chilometri con un litro per paragonarlo alle macchine, sapete che di media possiamo contare 190 chilometri all'ora. Quindi 20 litri per 190 chilometri. Ma in tutto questo, quindi quanto ho volato negli ultimi sei mesi? Meno di quanto mi aspettassi, in realtà. Ero convinto di aver volato di più, adesso d'estate rimedieremo. Eh, purtroppo con le giornate corte d'inverno. Allora, parto dal 29 luglio 2023, prima volta che l'ho acceso. L'ho usato per 0,2 ore, che sono 12 minuti, per rullare fino a un po' più in là, dove l'ho tutto lavato con l'idropulitrice. Non preoccupatevi, non ve le dirò tutte, eh. Comunque, il passaggio macchina, ci ho fatto questo video, cioè per imparare a usarlo, mi è costato un'ora e mezza di volo. Ho fatto un po' di circuiti per conto mio, più giusto per prendere la mano, qualche giorno dopo, per un totale di altre 1,7 ore. 3,2 ore sono andato in manutenzione, quando mi hanno montato le rette di compensazione e le cose varie. E poi iniziamo ad andare in giro per il mondo. Iniziamo a volare, sono stato affontanellato, mettendoci 2,8 ore in totale. 2,2 ore, un'altra giornata di volo, in cui ho smontato la radio, vi ricordate avevo problemi alla radio? Ne abbiamo parlato nel video dei costi. Poi sono stato a Sassuolo, 2,9 ore, non so se ho mai fatto un video su quel volo. Il famoso vado a una laurea in aereo, 2,8 ore. Sono stato a Vicenza, sono stato tantissime volte a Castelnuovo Don Bosco, dopo aver spostato l'aereo a Vigarolo, a Lodi, dove attualmente sta. Sono stato all'aeroporto di Cremona, sono stato a Torino Air Italia per andare a visitare il Museo Leonardo. Ho volato con Morolla, siamo andati a Casale Monferrato a mangiare, poi siamo andati su in Val di Susa, anche se il meteo non era buonissimo quel giorno. 1,3 ore sono andate per portare l'aereo a smontare il motore. Un'altra volta sono tornato a Castelnuovo Don Bosco per sostituire la valvola termostatica dell'olio. Sono stato all'avvio superficie di Masera, in Val d'Ossola. Sono stato sul Monviso, quello è stato un volo lunghissimo perché sono andato prima a Castelnuovo, poi abbiamo fatto tutto il giro sul Monviso e non era ancora cambiata l'ora. Dopo il cambio dell'ora siamo andati in Liguria, assieme ad Alfiere, siamo andati fino a Castelnuovo Don Bosco, quindi giù in Liguria all'aeroporto di Albenga, a trovare Giacco, di nuovo su a Castelnuovo Don Bosco perché dovevo lasciare una cosa ad Alfiere, dopo sono tornato a Lodi e questo qua penso sia stato il giro più lungo. Sono state 3,5 ore in un giorno solo. Eh no, il giro con Morolla 3,8. Comunque in totale ho volato solo 50 ore, solo 48,3 per l'esattezza. Che però vabbè, fatte nella stagione invernale, dove molti non volano neanche, ci può anche stare. Ho viaggiato molto, purtroppo sono rimasto molto assente. Adesso quando torno da Sun & Fun ne vogliamo tutti i giorni. Comunque il conto è presto fatto, anzi non così presto, fatemi prendere una calcolatrice. 48,3 per 20 litri ora facciamo, per 2 euro al litro. E sono già 2.000 euro di benzina, sono 1.932 di benzina che ho dovuto spendere. Qualcuno sotto l'ultimo video mi provava a farmi i conti in tasca dicendo Ah, a tutti iscritti farà tutti i soldi. Ma in realtà nei video di volo abbiamo avuto un solo sponsor. Quindi no, non si sono ripagati, ma si sono ripagati dalle bellissime cose che abbiamo visto. Dai bellissimi panorami, dall'esperienza di volo, dall'esperienza di comunicazioni radio, dallo stare current e proficient sugli aerei, che è molto importante. Perché come ti fermi di volare, come smetti, ti dimentichi tutto. La ruggine nel saper pilotare si fa prestissimo e poi diventa pericoloso. Quindi sì, la risposta è sì, ne è valsa la pena, assolutamente. Vi ho fatto un sacco di video bellissimi, ci siamo divertiti tantissimo e ancora ci divertiremo tantissimo nelle prossime... Voglio fare 50 ore nel prossimo mese. Ci proviamo? No, non lo so, nel prossimo mese magari no, però in maggio per dire, in quei mesi dove le giornate sono belle lunghe, bel tempo, cose varie, o in maggio e in giugno proviamo a fare 50 ore in un mese. Che vuoi che sia, vuoi un'ora e mezza al giorno tutti i giorni. Per questo video è tutto! Signori, pollice in su al video se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a Money Farm e poco più in sopra un pulsante rosso per iscrivervi al canale così YouTube vi avverte quando escono i nuovi video. Ciao a tutti!